A ragazzi buongiorno, anche se in realtà non è proprio un buongiorno visto un po' tutto quello che sta succedendo. Ne approfitto però per fare questo video perché in tantissimi mi state scrivendo in queste ore, in questi giorni, sul come fare per continuare ad allenarvi perché tante palestre, anzi tutte le palestre da oggi in tutta Italia sono chiuse e quindi in tantissimi chiedete informazioni per riuscire a fare un qualcosa in casa. Allora farò diversi video su questo argomento perché l'argomento è importante. Fermo restando che condivido e sto già condividendo tanti miei contenuti gratuiti, totalmente gratuiti, che vi possono ispirare per allenarvi in casa anche senza nessun attrezzo. Però oggi ci teniamo a fare questo video perché in tanti, oltre a chiedermi cosa fare, come allenare, mi state chiedendo quali attrezzi ad andare a comprare per riuscire ad allenarvi. Allora qua bisogna fare una panoramica generale, dipende da tantissimi fattori, un po' dallo spazio che avete a disposizione a casa per attrezzare una zona di casa vostra per l'allenamento e dal vostro budget perché anche qua se potete spendere di più potete acquistare più attrezzi, anche attrezzi più ingombranti, oppure avete dei piccoli spazi e non avete un grandissimo budget, allora potete optare per altre tipologie di attrezzi. Allora veniamo subito, se avete uno buono spazio e avete anche un budget di tutto rispetto, diciamo oltre 200-300 euro, potreste andare ad acquistare un alfrec, quindi una struttura con cui andare a eseguire i classici esercizi con i bilancieri, potete andare ad acquistare il bilanciere, una panca, una coppia di manubri caricabili. Ecco, generalmente questi alfrec poi hanno anche una sbarra per attrazione, quindi con questo attrezzo potete effettivamente andare a simulare tutti gli esercizi classici della palestra, dallo squat allo stacco, alla panca piana, al military press, veramente tutti gli esercizi con i manubri, quindi siete in una botte di ferro e vi potete allenare esattamente come in una palestra. Ovviamente dovete spendere di più, dovete avere una casa abbastanza grande, uno spazio per andare a mettere questo alfrec. Basta che andate su Amazon, cercate alfrec e vedete di quello che sto parlando. Se avete invece un budget minore, uno spazio più ridotto, secondo me un'ottima alternativa potrebbe essere anche semplicemente una panchetta e una coppia di manubri caricabili. Anche questa è un'ottima strategia per allenarsi. Io poi metterò in questi giorni comunque degli allenamenti da svolgere esclusivamente con una coppia di manubri, quindi anche qua mi sento di dirvi che potreste continuare ad allenarvi in tutta tranquillità a casa vostra andando a mettere in pratica degli ottimi programmi di allenamento. Poi ci sono quei soggetti che magari non hanno la possibilità di mettere la panchetta, non hanno la possibilità di acquistare i manubri. Un'ottima alternativa per queste persone se avete una porta solida è l'allenamento con il TRX o l'allenamento in sospensione. Questi cavi che si vanno ad agganciare poi dietro la porta costano relativamente poco, dai 15 ai 30 ai 40 euro. Trovate degli ottimi, diciamo, corde TRX similari al TRX originale e anche questo vi permette, ma vi metto anche qua un programmino d'allenamento, vi permette di allenarvi e allenare tutto il corpo in maniera efficace. Un'altra strategia, ho scritto recentemente proprio un manualetto anche sugli elastici, ma c'è una mia guida gratuita in cui faccio vedere una carrellata di tantissimi esercizi. Anche gli elastici potrebbero andare benissimo. Vi andate ad acquistare due o tre elastici di diversa intensità e questo anche vi permette di andare a simulare la maggior parte degli esercizi che andate a fare in palestra e anche questo è un'ottima forma di allenamento. Ecco, se non avete proprio nessun attrezzo, il mio consiglio potrebbe essere quello di valorettare il TRX o gli elastici. Sono strumenti che occupano poco spazio, quindi poi li potete tenere sempre con voi in una sacca oppure li potete mettere in un cassetto e fine della storia. Se neanche questo potete andare ad acquistare, allora dovete allenarvi esclusivamente a corpo libero, quindi corpo libero si intende proprio con il vostro peso corporeo, ma qua dovreste essere già un po' bravini a maneggiare l'arte del calisthenics. Potreste sfruttare una o due sedie per andare ad eseguire delle varianti di dip e anche in questo caso potreste allenarvi. Fermo restando che solo corpo libero diciamo che quello che manca un po' potrebbe essere l'allenamento dei muscoli della tirata, quindi del dorso e delle braccia, perché con pavimento, sedie e muro, diciamo anche per andare a fare una verticale, è possibile allenare benissimo i muscoli di spinta, spalle, petto, tricipiti. Si possono lavorare benissimo gli arti inferiori. Per i dorsali doveste inventarvi un po' degli esercizi, siete questo un po' il limite, quindi il TRX in quel caso sarebbe perfetto. Questo diciamo è un video introduttivo per farvi capire un po' quali siano gli attrezzi migliori per riuscire ad allenarvi in casa. Ecco per tutti di questi attrezzi vi lascerò poi comunque dei contenuti video già preparati in cui vi aiuterò a costruire un po' il vostro allenamento per riuscire a mantenervi in forma anche in questo momento particolare che stiamo vivendo, perché un po' come stanno consigliando, è giusto l'isolamento, è giusto non muoversi troppo, è giusto mantenere le distanze, è giusto evitare i contatti con altre persone o comunque mettersi in luogo potenzialmente a rischio. Quindi atteniamoci un po' alle indicazioni che ci sono state date, speriamo che questo periodaccio possa risolversi in fretta e niente, come sempre vi auguro una buona giornata, un buon allenamento, se avete domande lasciatele pure qua sotto nei commenti, sarà un piacere cercare di aiutarvi anche in questo periodo. Un saluto, ciao!